Galileo mise a punto alcuni strumenti di misurazione indispensabili per la verifica delle sue intuizioni matematiche e per le scoperte degli anni successivi. Un termometro ad aria, un compasso geometrico e militare e soprattutto il cannocchiale, inventato dopo aver avuto notizia che in Olanda era stato costruito un occhiale utile per vedere gli oggetti da lontano, un'invenzione da lui subito applicata all'osservazione astronomica. Venivano così poste le basi per la sua adesione alla teoria copernicana. La scoperta, grazie al cannocchiale che la superficie della luna è simile a quella della Terra, metteva in crisi la distinzione aristotelica tra la Terra e i corpi celesti e quindi, sia pure implicitamente, confermava l'ipotesi copernicana. A questa seguirono altre osservazioni e la scoperta dei satelliti di Giove. Di tutte queste scoperte, Galileo dette notizia nel Sidereus Nuncius, un'opera in latino pubblicata nel marzo del 1610 e dedicata al Granduca di Toscana, Cosimo de' Medici. I quattro satelliti venivano chiamati Astri Medicei. L'opera ebbe vastissima risonanza in Italia e in tutta Europa. Nel 1616, da Padova, Galileo rientrò in Toscana e fu nominato matematico primario all'Università di Pisa, ma senza obbligo di insegnare e anche matematico e filosofo di corte. Negli anni seguenti, Galileo investì quasi tutte le sue energie intellettuali nella dimostrazione scientifica della validità della teoria eliocentrica elaborata da Copernico. Il dialogo sopra i due massimi sistemi pubblicato nel 1632 è la sintesi sublime di un lavoro di studio di almeno vent'anni sulla teoria copernicana. Le dimostrazioni fornite da Galileo relative alla somiglianza tra la Terra ai corpi celesti e al moto della Terra come causa delle maree mettevano in discussione tutta una concezione del mondo che formava un corpo unico e indissolubile con l'autorità anche spirituale della Chiesa. Quindi, nonostante la concessione della possibilità di stampare l'opera, la reazione fu aspra anche da parte di Urbano VIII. Il libro fu sequestrato e all'autore fu ordinato di presentarsi al Sant'Uffizio. Il processo iniziò il 12 aprile 1633 e si concluse il 18 giugno con la condanna. Il dialogo venne messo all'indice e Galileo fu condannato al carcere alla Biura che firmò subito con la proibizione di stampare altre opere. Lasciata a Roma già nel mese di luglio, lo scienziato pisano ottenne di potersi trasferire nella sua villa ad Arcetri, agli arresti domiciliari, assistito dalla figlia Virginia. Qui proseguì nei suoi studi. Le ultime opere, dedicate alle ricerche sul moto, vennero pubblicate in Olanda nel 1638, Galileo si spense nel 1642.